Il suo editoriale è chiarissimo, l'imbroglio di Pontide, su questo abbiamo parecchio da discutere. Onorevole Orlando, lei annuisce, è d'accordo, è stato un imbroglio inteso nel senso ciò che si è detto domenica Pontida, ha un suo valore, fa storia già oppure? I fatti sono argomenti testardi, abbiamo assistito a un ennesimo penultimatum della Lega, a una grande manifestazione a Pontida e l'indomani tutto come prima del penultimatum, a conferma che c'è un discorso che si fa alla propria base e c'è un discorso che si fa per governare, quando c'è una divaricazione tra ciò che si dice per governare e ciò che si dice alla propria base c'è qualche problema, voglio fare riferimento al problema dei ministeri a go go, questa ipotesi di collocare dei ministeri, di localizzare i ministeri e vorrei fare osservazioni tutte assolutamente scontate, ma siamo in un paese nel quale dire cose scontate probabilmente appare una provocazione. La prima, dal punto di vista costituzionale e istituzionale noi abbiamo un governo che ha sede a Roma e abbiamo, come veniva ricordato dallo stesso ministro Fitto, abbiamo le prefetture che sono uffici del governo e quindi da questo punto di vista qualunque ministro, qualunque esponente del governo ha il suo ufficio non in ogni regione, non in due o tre regioni del nord o del sud, ma in tutte le province italiane. Secondo passaggio in termini di costi, è chiaro che trasferire ministeri in giro per Italia aumenta i costi e certamente non semplifica le procedure. Il terzo punto me lo dice dopo il telegiornale. Il terzo punto è perché riguarda il federalismo. Riguarda il federalismo, adesso ci sono tutte le notizie e noi torniamo tra poco in vostra compagnia, grazie. Una considerazione sul federalismo, il federalismo non è spostare la sede fisica di un ministero da Roma a Milano piuttosto che a Palermo, ma è trasferire funzioni e competenze del ministero al sistema di autonomia locali, quindi trasferire le competenze che sono in oggi ministeriali a regioni, province e comuni. Da questo punto di vista il dire che questa è una proposta che nasce in chiave federalista è esattamente una perversione del federalismo, quello vero, aggiungendo un aspetto che ha scatenato veramente una risibile corsa ai punti VDB o ai punti Panini, per cui due al nord e due al sud, posso permettermi di dire da italiano che non li voglio né al nord né al sud, e da meridionale che non mi interessa bilanciare al sud una a sud che si fa al nord. Poi c'è tutta la parte politica, poi torniamo ai problemi concreti delle persone perché poi la politica è questo. Però c'è tutta la parte politica che avrebbe voluto all'indomani dei risultati delle amministrative, all'indomani dei risultati del referendum, vedere alle elezioni subito, se così posso dire, insomma, sintetizzare. E invece? No, io credo che intanto vorrei fare una considerazione sul tema della propaganda, usando l'espressione comunicazione, così evitiamo di essere in qualche modo fraintesi. Io credo che la vita è comunicare. Ma guardi, propaganda, ci siamo a burocrazia e propaganda, non sono parolacci, insomma, la politica è comunicare e far propaganda. Il tema non è se fai o non fai propaganda, ma se tu propagandi una scelta che sai che non è scelta diventa un fatto negativo. Porto un esempio per tutti. È propaganda nel senso deteriore la iniziativa fatta dal ministro Calderoni, ministro e parlamentare, che potrebbe presentare un disegno di legge, e quello è il disegno di legge che deve essere esaminato, che dice io, ministro, parlamentare, componente di una maggioranza che ha la maggioranza alla Camera e al Senato, raccolgo le firme per un'iniziativa popolare, per delocalizzare i ministeri. È una non scelta. E questa è propaganda nel senso deteriore, perché tu sai che quella legge non verrà mai approvata. Allora, sapendo che non verrà mai approvata, fai questa scelta. Perché faccio questa considerazione? Perché io credo che il comunicare sia importante e venendo al tema delle elezioni ultime un mese, 15 e 16 maggio, il ballottaggio 29 e 30 maggio, il referendum 12 e 13 giugno, noi abbiamo detto, diciamo e ripetiamo, nessuno si illuda di leggere quello che è accaduto secondo le tradizionali categorie, ha vinto il centro-sinistra, e ha vinto il centro-sinistra e ha perso il centro-destra. Potremmo fermarci a questo. È una mancanza di rispetto al nuovo che è emerso da queste elezioni. È emerso una maggioranza di italiani che vuole essere protagonista, che ha fatto la scelta delle primarie, che si è riconosciuto in un referendum per le scelte strategiche e che utilizza internet. Voglio ricordare che un mese fa, prima di questo mese primaverile, un mese fa le primarie erano figlie di un dio minore, il referendum tanto non riesce e l'internet era una pratica per schizzati. Oggi sono diventati invece strumenti guida rispetto a questo. Ognuno deve chiedersi che senso ha la sua presenza in politica. Noi di Tanevalori abbiamo detto che la ricreazione è finita, che non è più il tempo di pensare soltanto a dir no a Berlusconi, dobbiamo evitare che dopo Berlusconi venga il berlusconismo e dobbiamo responsabilmente contribuire a costruire una coalizione su una base programmatica condivisa che possa poi esprimere con le primarie il proprio premiere. In questo modo, raccogliendo il messaggio che viene dagli elettori. Siamo convinti che questo è quello che serve al Paese. Vorremmo che dall'altra parte, c'è chi si colloca dall'altra parte dello schieramento, affrontasse con le quali serietà i problemi del Paese.